Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, Egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio, perché ero con voi». Facce bene, amici, e ben trovati in questa sesta domenica dopo Pasqua, secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di Erno lo possiamo suddividere in due parti. Una parte è consolatoria, è una parola di consolazione che Gesù rivolge ai Suoi promettendo lo Spirito. Dall'altra parte troviamo una profezia, una profezia di croce, che parla di odio, di persecuzione da parte del mondo. E la domanda sorge subito, immediatamente. Come mai la parola della verità, la parola che Gesù ha pronunciato, non scalfisce il mondo, non scalfisce e non cambia apparentemente le logiche di morte di cui la storia ci testimona? Come mai questo? Come mai, nonostante Gesù Cristo sia risorto dentro il tempo, dentro la Chiesa, che si perpetua fino alla consumazione dei secoli, nonostante questa sua presenza, continua a rimanere pesantemente il segno di contraddizione che la Chiesa e la comunità cristiana provoca nei confronti del mondo? E' semplicemente, la risposta è semplice da darsi, però è faticosa da accogliere e da tenere presente nella vita concreta di tutti i giorni. Noi, come discepoli di Cristo, siccome hanno odiato Lui, odieranno anche noi, perché il mondo odia ciò che non è suo. Cioè, nella misura in cui seguiamo Gesù Cristo, dobbiamo dare per scontato che anche noi verremo odiati e perseguitati a causa Sua. E lo dice il Vangelo di oggi. Saranno contenti perché penseranno di aver fatto una cosa giusta perseguitandovi. E quindi la via della croce si perpetua nella storia attraverso i discepoli, attraverso la Chiesa. La via o il segno della croce che troviamo nella vicenda del Gesù di Nazareth si perpetua fino alla fine dei tempi dentro la comunità cristiana. E allora dobbiamo dare per scontato che siccome il mondo rifiuta ciò che non è suo, noi essendo discepoli di Cristo e nella misura in cui siamo discepoli di Gesù Cristo, nella misura in cui questa discepolanza si rende evidente e chiara, subiremo la croce di Cristo, la persecuzione e l'odio del mondo. Ma non preoccupatevi perché io ho vinto il mondo, dice Gesù altrove. Non preoccupatevi perché vi lascio lo Spirito Santo. Certo che lo dà a tutti lo Spirito, che lo Spirito alleggia sulle acque all'inizio dei tempi e della storia e continua ad avvolgere il mondo e la vita. Ma questa promessa del Consolatore che Gesù rivolge ai Suoi è una promessa che riguarda i Suoi. È una promessa che tende a togliere, stradicare la disperazione e lo scoraggiamento che può insinuarsi dentro il cuore dei Suoi. È uno Spirito promesso a coloro che lo seguono più da vicino, a coloro che veramente, seriamente, concretamente, con impegno, con costanza, con fedeltà, si mettono alla sequela di Cristo. Molte volte viene meno quell'entusiasmo e quella speranza che ci porta a proclamare la parola del Signore. E fa capolino dentro la nostra vita, dentro il nostro cuore, un senso di smarrimento, di scoraggiamento, di delusione, di disperazione alcune volte. Ecco, lo Spirito promesso tende alla funzione di consolarci, sradicando queste erbe malvagie, questa zizzania che si insinua dentro la nostra vita e che soffoca il bene e la parola che noi siamo chiamati a pronunciare e ad annunciare sempre. Il Signore è sempre con noi, fino alla fine dei secoli. Il Signore l'ha promesso, ha promesso questo Consolatore. E in qualsiasi situazione possiamo venirci a trovare, possiamo avere la garanzia e la certezza sulla parola del Signore che veremo sostenuti in questo nostro servizio di annuncio e di proclamazione e di testimonianza. Faccio bene, amici, a risentirci alla prossima domenica. Faccio bene, amici, a riso. Faccio bene, amici, a riso. Grazie a tutti.